Un gruppo molto difficile, molto equilibrato, molto duro perché anche dalle qualificazioni è arrivato una squadra top come il Galatasaray, ma d'altra parte in Eurolega sappiamo che è così, ogni anno anche qualche grande squadra magari non entra nelle top 16 perché c'è sempre più equilibrio, c'è sempre più alto livello, le squadre sono tutte preparate all'inizio della stagione, quindi io non mi faccio mai la testa se c'è un girone più duro di un altro, uno più complesso perché tutti bene o male sono gironi difficili, in Eurolega lo sappiamo e fin dalla pre-season dico sempre ai miei giocatori quanto è necessario essere pronti subito perché altrimenti corri dei grossi rischi, quindi credo che sia un girone dove ovviamente a parte il Barcellona che è impensabile che possa rimanere fuori, che è la squadra favorita, poi ci sarà molto molto equilibrio e credo che saranno partite da subito molto emozionanti anche per i tifosi e per tutti i fans dell'Eurolega.